Piazza San Pietro La scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà. La scuola ci insegna a capire la realtà nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. La sintesi dell'incontro di sabato 10 maggio nel servizio del SIR. Presente! Non è un lamento, è una festa. Una festa per la scuola. La scuola, sappiamo bene che ci sono problemi e cose che non vanno, ma voi siete qui, noi siamo qui perché amiamo la scuola. E dico noi, perché io amo la scuola. Papà Francesco! Papà Francesco! Imparare a imparare, questo rimane per sempre. La scuola è la prima società che integra la famiglia. Presente! La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposti. Sono complementari. E dunque è importante che collabori. Non lasciamoci rubare l'amore per la scuola. La scuola non vanno mai contrapposti.